dobbiamo avvicinarci in punta di piedi alla notizia che c'è oggi in prima pagina sui quotidiani che trattano della provincia di belluno ovvero corriere delle alpi e gazzettino i giornali che utilizziamo per questa rassegna stampa di radio piave in blu oggi che giovedì 4 agosto in punta di piedi perché si affaccia un'ipotesi come dire terribile disarmante sulla morte del piccolo nicolò il dramma di longarone titola il corriere delle alpi intossicazione da droga una terribile ipotesi dall'autopsia sul bimbo di due anni il decesso sarebbe stato causato da una sostanza ingerita in casa e questo è il titolo in prima pagina sul gazzettino di belluno nicolò avvelenato ascis in casa l'autopsia il bambino di due anni di longarone non era malato sfuma la pista del parco e il papà è l'unico indagato vi leggo il lancio in prima pagina l'articolo e la firma di bonetti poi a pagina 8 c'è l'approfondimento sul gazzettino da cui sto prendendo adesso il corriere dedica il primo sfoglio addirittura a questa vicenda perché gli sviluppi che stanno emergendo sarebbero gravi e comunque insomma costringerebbero a rivedere un po quello che fino adesso abbiamo detto sulla morte di questo bimbo come sempre ripetiamo bisogna aspettare che le indagini finiscano prima di giudicare adesso andranno avanti gli esami tossicologici ci vorranno molti giorni ci vorranno tre mesi e solo fra tre mesi si potrà avere la certezza quindi fino a quel momento non è possibile non è giusto anzi è doveroso non giudicare non giudicare noi lasciamo che facciano il lavoro gli inquirenti questo si può dire però il piccolo nicolò leggo dalla prima del gazzettino era sanissimo la morte è avvenuta per avvelenamento per capire quale sia la sostanza che ne ha causato il decesso però bisognerà attendere 90 giorni questo è il tempo che si è preso il medico legale incaricato dalla procura il dottor antonello cirnelli di portogruaro che ieri ha proceduto all'autopsia sul piccolo di codissago il bambino che avrebbe compiuto due anni il prossimo 17 agosto è deceduto il 28 luglio dopo essere stato portato in condizioni ormai disperate al pronto soccorso di pieve di cadore dal padre diego feltrin il genitore è l'unico iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di omicidio colposo in quanto non avrebbe vigilato sul bambino che avrebbe ingerito la sostanza pericolosa ma cos'era questa sostanza il padre ha sempre raccontato di aver visto il piccolo prendere qualcosa da terra nel parco e di averlo ingerito bonetti a pagina 8 qui che approfondisce come vi dicevo noi andiamo subito a pagina 8 a vedere l'approfondimento il titolo qui è dunque aspetta che ho sbagliato pagina pagina 7 pagina 8 ecco nicolò ecco la fotografia del bimbo lo vediamo ancora una volta il titolone nicolò era sano morto per il veleno la causa di morte del piccolo di due anni di codissago emersa ieri nell'autopsia tre mesi adesso sono necessari per l'esame tossicologico l'unico indagato e papà diego che ha nominato un proprio consulente scricchiola la versione dell'ingestione al parco e su questo vi leggo il paragrafo di olivia bonetti poi leggete voi l'articolo vi lascio il consiglio di acquistare il gazzettino o il corriere delle alpi per saperne di più si fa sempre meno plausibile l'ipotesi parco visto che nei giardini di codissago dove il padre ha raccontato che il bimbo avrebbe ingerito la sostanza tossica non è stato trovato nulla gli inquirenti hanno cercato palmo a palmo nel parco non è stato trovato niente per terra la ricostruzione della giornata era stata fornita ai carabinieri dal padre stesso diego feltrin che ha raccontato quelle ore che hanno preceduto il malore del suo piccolo la mattina erano andati al parco sotto casa codissago per giocare nicolò avrebbe ingerito una sostanza marrone che il padre gli ha subito tolto di bocca poi erano tornati a casa per pranzo e il piccolo era stato messo a letto per il pisolino ma quando il padre è andato a svegliarlo lo ha trovato come rintontito immediata la corsa all'ospedale di pieve di cadore con la propria auto dove nicolò è arrivato ormai incosciente ed è morto poco dopo ieri a codissago anche le telecamere della vita indiretta di rai 1 che hanno raccontato la storia del piccolo nicolò o meglio di quello che si può sapere della storia del piccolo nicolò allora come dicevo non giudichiamo per ora restiamo uniti e vicini al dolore di quella famiglia può essere se così fosse che il padre venga accusato di mancata vigilanza rispetto alle sostanze pericolose che sono in casa e come sappiamo può essere anche un detersivo può essere una bottiglia di qualche liquore ecco i bambini per i bambini possono essere fatali le ingestioni di questi tipi di sostanze e sull'ipotesi droga bisognerà bisognerà verificare anche quanta ce n'era eccetera insomma perché sappiamo che in italia è illegale lo spaccio non la detenzione di piccole quantità per il consumo proprio quindi è tutto da vedere insomma anche il capo d'accusa che potrebbe prefigurarsi per chi non ha vigilato adeguatamente comunque insomma questo è il titolo di apertura del corriere delle alpi e il titolo centrale grosso della prima pagina anche del gazzettino di belluno qui sul corriere vi dicevo le pagine di approfondimento sono sono due mi sembra e sono sì sì sono due e sono le prime due hanno messo i colleghi del corriere all'inizio del giornale dove di solito ci sono le cronache nazionali hanno spostato lì in apertura le notizie che vengono adesso da lungarone nicolò potrebbe aver ingerito della droga una terribile ipotesi emerge dall'autopsia per il medico legale c'è il forte sospetto che il piccolo abbia assunto una sostanza stupefacente e per questo sia morto allora in questo è il titolo portante gg sosso qui che approfondisce ci sono altri titoli su questo tema e vi ve li leggo perché ci aiutano forse a farsi un'idea migliore ripeto pur dovendo noi lasciare il lavoro agli inquirenti ma i giornalisti fanno il loro e giustamente gg sosso qui è andato a sentire è andato indagare l'altro titolo il naloxone blocca gli effetti degli opioidi il naloxone è il farmaco che è stato somministrato a nicolò feltrin non appena il bambino è stato preso in cura dai medici dell'ospedale di piede di cadore è un farmaco narcotico viene somministrato esclusivamente da personale medico tramite iniezione intramuscolare sottopelle o direttamente in vena l'agenzia del farmaco riporta che si tratta di un antidoto nel trattamento delle intossicazioni da analgesici e narcotici agisce invertendo gli effetti di altri narcotici ne antagonizza l'effetto competendo con loro per il legame con gli stessi recettori degli opioidi viene usato in interventi chirurgici ma anche nel trattamento del dolore e nei casi di overdose da narcotici ecco questa è la notizia insomma che fa anche aumentare i sospetti su quello che è successo nelle indagini il titolo in taglio basso sequestrata una sostanza nell'abitazione dei feltrin perquisizione sequestro difficile che siano avvenuti già giovedì perché il perquisito ha il diritto di essere assistito da un avvocato di fiducia certo dopo la morte nel pomeriggio di nicolau feltrin i carabinieri della stazione di longarone sono stati a lungo nell'abitazione di diego feltrin e serena doff la moglie i genitori del piccolo sono stati ascoltati per una prima ricostruzione comprensibilmente sommaria di quello che è accaduto tra la mattina e le 16 di giovedì il caso è ancora gestito dai militari di longarone che si sono avvalsi della collaborazione dei colleghi di pieve di cadore per acquisire la cartella clinica del piccolo paziente e fare le verifiche io adesso non vi leggo non vi leggo tutto ma capite bene che che la vicenda insomma ha dei risvolti giudiziari che potrebbero essere anche importanti dice l'ultimo paragrafo di questo articolo di gg sosso che ci sarebbe stata la perquisizione in una seconda fase delle delle indagini con il so con il sequestro di sostanza stupefacente ci sarebbe stata non è detto non si sa per certo che sarà confrontata con una sostanza rilevata rilevata dal medico legale nel corpo di nicolò anche qui c'è stata la sostanza o no quindi attenzione prendiamo tutto con le pinze e aspettiamo di capire bene che cosa è successo c'è la foto del dottor antonello cirnelli il medico che fa le autopsie non ci sono traumi sul corpo del piccolo l'avvocato aspetto l'esame tossicologico i sintomi sono più gravi nei bambini e l'analisi di un medico su questo tipo di vicende si arriva al blocco cardiorespiratorio ed è quello che si teme ci sia stato nel caso del piccolo nicolò allora abbiamo cominciato così questa rassegna stampa di radio piave in blu appunto oggi la conduco io luigi guglielmi buongiorno a tutti con queste notizie che ripeto fanno molto molto male perché già dare la notizia della morte di un bambino così piccolo o in circostanze poco chiare è un dolore grandissimo se poi si affacciano anche ipotesi inquietanti di questo tipo capite che insomma il dolore si rinnova e comunque io penso anche a quella povera famiglia insomma ecco per quanto insomma se ci sono delle responsabilità andranno chiarite e bisognerà anche che si arrivi a un'attribuzione precisa insomma ecco la foto centrale del corriere delle alpi da finalmente evidenza dico finalmente perché sono ormai il terzo giorno che abbiamo in mano questo benedetto comunicato della regione che dice che saranno svuotati i nostri laghi che sono già in corso di svuotamento per annaffiare la pianura la foto riguarda il lago del miss finalmente il tema diventa da prima pagina sul corriere che pure l'aveva trattato anche ieri il gazzettino in modo molto più sommesso ieri invece il fatto è grave i sindaci si stanno arrabbiando la foto riguarda il lago del miss con le sponde in buona parte nude e la spiaggetta di fatto il prato che fa da spiaggetta inutilizzabile perché sotto poi c'è la luna prima dell'acqua il lago di santa croce che sulla spiaggetta di farra diventa poi fango fino al punto in cui ci sono comunque gli appassionati di kite che volano ma sono centinaia di metri di fango perché il livello è bassissimo ricordiamo che su quei fanghi e sono successe anche disgrazie qualche anno fa la morte di un bambino che è rimasto intrappolato è stato risucchiato dal fango quindi bisogna anche stare attenti in queste situazioni il titolo laghi svuotati la rabbia dei sindaci nessuno ci ha interpellati è la guerra dell'acqua dice il corriere dal mars francesco dal mas qui che firma poi gli approfondimenti su una pagina 6 17 devo dire che francesco dal mas qui come ieri altri colleghi non si erano accorti di quanto grave è questa cosa dell'acqua se ne stanno accorgendo adesso e il corriere oggi mette in prima pagina di tutti guerra dell'acqua di tutti contro tutti anche se nessuno la vuole non piove la siccità stressa i vigneti del prosecco nell'ultimo mese prima della vendemmia la campagna e la collina chiedono pertanto che la montagna le disseti nel caso specifico l'unità di crisi idrica della regione ha chiesto ad enel green power di svuotare di qualche metro nell'ordine i laghi del miss del centro cadore di santa croce e i sindaci si arrabbiano un'ammazzata impiega nella stagione turistica io già di ieri vi ho detto in questa rassegna che se fosse per produrre grano perché non ce ne arriva dall'ucraina si può capire il sacrificio anche della montagna se è per produrre il prosecco che non è un alimentare e che non è non è un alimento fondamentale e che è un è una produzione industriale che produce guadagni immensi bene se è per produrre il prosecco allora bisogna che ci mettiamo d'accordo non è possibile che noi rinunciamo al nostro paesaggio al nostro turismo legato a quel paesaggio noi che non è che possiamo produrre chissà quanti cose qua in montagna dobbiamo rinunciare a un nostro bene per arricchire i produttori del prosecco e va bene non è questione di fare la guerra è questione di parlarsi in modo chiaro anche perché come abbiamo detto ci sono ben altri problemi per risolvere i problemi dell'irrigazione della pianura ben altre questioni da affrontare le canalette a cielo aperto per esempio i pozzi abusivi e quello che vi dicevo già ieri lo ripeto oggi non c'è nessun bellunese dentro questa unità di crisi che decide cosa fare della nostra acqua non è giusto vediamo dopo sfogliando altri titoli in questa prima cortina madre dice no al tampone le viene tolto il figlio beh insomma questo è un titolo un po assommario appunto il grido di dolore di una mamma è più di un anno che non vedo mio figlio era il primo luglio 21 quando il tribunale dei minori ha tolto il bimbo a una donna di cortina affidandolo al padre che invece abita a roma per una vicenda legata al covid un tampone rifiutato da allora con testa illegale della donna all'avvocato marco vendramini la madre ha potuto vedere il figlio solo con videochiamate cortina ancora pochi parcheggi per i pendolari dal cadore e sale la protesta sono pochi e sono anche mezzi utilizzati dai cantieri vari che ci sono a cortina è morto paolo dalan noi giornalisti conoscevamo bene questa figura perché si tratta di un sindacalismo di un sindacalista della will ma aveva solo 58 anni domani l'addio famiglia lavoro impegno sociale l'addio a giambattista arrigoni morto appunto per le conseguenze del fulmine caduto su casa sua a salce cesi maggiore valcanzoi la perina dice stop alla festa del miele troppo impegno estate difficile in valcanzoi alle prese con l'orsera sempre chiusa al pubblico e adesso l'annullamento la notizia dell'annullamento della festa del miele da parte dell'associazione la perina sono necessarie energie che non ho più dice il presidente remo corona e poi non siamo granché considerati diciamo che anche il reperimento del volontariato con i pochi giovani che abbiamo in provincia sta diventando una difficoltà sempre più grande quando si fanno queste feste è necessaria la collaborazione di molte molte decine di persone quindi probabilmente immagino insomma che problemi possono anche essere anche legati a questo mentre sfoglio il corriere delle alpi salto tutta la parte nazionale diciamo che è in buona misura dedicata alle vicende delle future elezioni c'è l'internazionale che si concentra la parte internazionale che si concentra su quello che sta succedendo a est della cina cioè nella grande isola di taiwan che è legata all'occidente e che si sente sempre minacciata dalla cina che non ha mai nascosto le intenzioni un po come la russia con l'ucraina insomma di non ha mai nascosto di considerare la parte del proprio territorio diciamo ecco oggi l'ultimo forte abbraccio al monestiere e anche da qui ci esprimiamo il cordoglio per questo collega importante molto importante che è morto soprattutto alla moglie ecco la famiglia le famiglie sono di belluno lui è sempre rimasto legato a belluno anche se adesso lavorava a udine dirigeva giornali a udine a trieste qui l'approfondimento laghi svuotati in piena estate come dicevamo rabbia dei sindaci noi all'oscuro via ai prelevi da santa croce miss e centro cadore viviamo di turismo questo per noi è uno schiaffo mortale debon sindaco di sospirolo pronti alle barricate siamo già al 40 per cento del massimo volume lo dicevamo già ieri no era appena arrivato il riconoscimento di lega ambiente su quel lago petter le scrive al commissario per chiedere investimenti straordinari ma qui si parla della crisi idrica dell'alpago ancora sui laghi bottacin e puppato in caso di siccità una legge dello stato impone i prelievi cioè la finalità irrigua e per l'agricoltura prevale sulle altre finalità quindi la mossa non è illegale quella di svuotare i nostri laghi se serve per annaffiare il prosecco perché è una legge che dice questo ma le leggi si possono cambiare perché ripeto non è che se domani viene crisi idrica di acqua potabile da bere noi ci beviamo il prosecco ok quindi ricordiamoci che il prosecco è una produzione industriale a tutti gli effetti e questo andrà tenuto conto a livello di legge la grande eredità di arrigoni famiglia lavoro e sociale e abbiamo detto dei funerali il comune assume ma c'è solo un operaio e l'unione montana è in difficoltà parliamo di belluno e dell'unione montana belluno ponte ci sono i necrologi tra l'altro appunto con quello dedicato ad alan come vi dicevo prima dunque feltre musica giocoleria e fuochi d'artificio nel sabato del palio il direttore artistico fabio giudice cura la regia dell'evento felici di tornare in centro storico divertiremo il pubblico c'è grande attesa per questa nuova edizione la prima dopo dopo le pene del covid valcanzoi l'orsera è chiusa e la festa del miele è stata annullata come abbiamo detto ultimi ritocchi alla palestra la consegna tra una settimana e qui parliamo di arsie poi ancora andando avanti firmato l'accordo definitivo per il passaggio di acc a sest importante centro polifunzionale dedicato a del vecchio è stata avviata la procedura per farlo l'allemagna riaperta doppio senso via uberti chiusa per gli ultimi lavori ma vedremo che il titolo del gazzettino ben diverso pochi alpinisti marmolada ma la parte veneta è aperta questo bisogna ribadirlo perché la potenza di fuoco dei trentini la visibilità dei trentini che hanno questa impossibilità di garantire l'accesso alla marmolada sovrasta la visibilità nostra che invece dobbiamo affermare con molta più fatica che dalla parte veneta bellunese sulla marmolada si può normalmente salire e questo purtroppo reca un danno enorme al nostro turismo dopo due anni di covid e prima con vaia insomma veramente ne succede una dietro l'altra in territorio di rocca pietro insomma bisogna bisogna proprio dire la verità allora vi dicevo del gazzettino di belluno volevo farvi vedere gli altri titoli scuola sempre peggio mancano 600 insegnanti fra un mese si riparte e l'ex provveditorato dice sarà un altro anno di passione edilizia scolastica la provincia la vicepresidente ai presidi vogliamo edifici sicuri e accoglienti l'anello del comelico compie 50 anni alla foto centrale santo stefano e lungo 85 chilometri confina con l'austria belluno la città saluta monestier arrigoni ed alane ecco i tre lutti di cui dicevamo prima vedete il titolo sul gazzettino sull'allemagna riaperta al traffico longarone alemagna riaperta viabilità nel caos a cortina torna la fontana sopra il parcheggio il progettista richiama il campanile ma vediamo il lancio veloce di santin sulla faccenda dell'allemagna dopo circa quattro mesi di chiusura ieri a longarone la statale di alemagna è tornata ad essere percorribile in entrambi i sensi tutto bene quindi fatta eccezione per il disagio lamentato da qualche automobilista che abituato a percorrere la deviazione che scendeva verso la zona malcom e poi saliva lungo via uberti non si è accorto che anas aveva tolto le indicazioni che obbligavano chi saliva in direzione del cadore a percorrere la deviazione stessa si è ritrovato alla fine di via uberti con una strada sbarrata dai jersey le barriere usate per impedire provvisoriamente il transito e non sono stati pochi gli utenti che sui social si sono lamentati del disagio quindi insomma disagio però diciamoci la verità di poco di poco conto non mancano 600 prof un rebus quasi vent'anni di scuola in rete la costituzione il nostro faro e c'è la foto del benemerito franco che mello ciao franco la foto di arrigoni piange il cuore immaginare appunto che quest'uomo non ci sia più domani in duomo l'addio monestier anche lui incredibile e poi appunto la morte di paolo d'alan sindacalista wilm riuniti nella stessa pagina sul gazzettino alemagna riaperta ma automobilisti in trappola in feltre parliamo del palio e poi la pagina di approfondimento su nicolò di cui vi ho già detto alla fine dopo le pagine di pubblicità prima dell'alba per le vittime della marmolada la gordino volta pagina dopo la tragedia di luglio ma dedica alla memoria degli alpinisti travolti la mostra la mostra di un pittore e questo insomma per quanto riguarda l'agenda dei fatti di cultura io vi saluto qui vi auguro un buon giovedì 4 agosto ciao a tutti buona giornata